Già quest'estate facciamo un'iniziativa sempre collegata al gospel con molti concerti, è avuto un successo straordinario. Abbiamo pensato allora, visto che il gospel si lega anche la spiritualità e quindi deve contraddistingue anche il periodo di Natale, pensiamo di farla quindi in piazza aperta alla città per far sì che questa grande persona per il gospel possa arrivare a coinvolgere tutta la città, facendola uscire dai luoghi istituzionali dove abbiamo fatto in passato, teatro eccetera, per regalarla al cuore della città in un momento in cui si può stare insieme con la musica, con testi importanti, con bei momenti, insomma un gospel per tutti. Te invito i cittadini a venire a partecipare, a venire in piazza, a godersi questa grande musica, questa grande storia musicale che sarà per tutti in piazza e che è questo momento che caratterizzerà senz'altro il fascino del Natale con il fascino della cultura.